Questo mondo tende la sua mano, forse cerca Dio, cerca aiuto a Dio. Sento questo mondo ormai lontano, questo mondo nostro, questo mondo mio, e mi rivedo da bambino, nei ruscelli, con quell'acqua trasparente, come adesso è la mia mente, che già vola sul mare, perché vuole cercare qualche cosa di vero, qualche cosa di puro, che assomiglia all'amore, che ci manca da tanto, e che ormai, non viviamo nel sogno. Ma che accade in questo mondo, sembra un altro mondo, che ci fa paura, che ci fa tremare, cosa accade? Tentri in fondo a noi, batte ancora il cuore, o è già morto ormai, questa sete di potere, di potere e denaro, un destino troppo amato. La soluzione forse è pregare, credere di più, in ciò che vale, una vita più spirituale, meglio adesso sai, prima di morire, poi forse nasceranno rose, la coscienza che fiorisce nelle case, una nuova conoscenza, innocenza sapienza, che riunisce la gente, la gente che ci ascolta, con il cuore ci sente, una luce sorgente, che irradia le menti, e si stende, su e alle tramonti. Finirà lo smarrimento, sarà un rinascimento, la speranza grande, che ci fa vibrare, fino in fondo, sentiremo poi, qualcosa dentro noi, viva più che mai, un miracolo, la fede, la gioia di chi crede. Finalmente un nuovo mondo, un nuovo mondo.